Un pareggio che lascia la mano in bocca all'Avezzano e ai suoi tifosi, maturato nel corso di una partita nella quale il direttore di gara ha fatto parecchio discutere con le sue decisioni, soprattutto nel secondo tempo. Bianco Verdi reduci da una settimana che aveva visto la conferma di Ferazzoli alla guida di una squadra alla quale oggi non si può rimproverare nulla. Ma andiamo per ordine e incominciamo dall'inizio che vedi Romagnoli più propositivi e più disposti a fare loro la partita. Così che al nono Samb va a deviare di testa al lato un pallone che forse poteva essere sfruttato meglio. E cinque minuti più tardi è ancora il numero 77 Rossoblu a sfruttare la propria altezza ma sempre con scarsi risultati. Per l'Avezzano un destro di mascella da una trentina di metri anch'esso al lato e poi poco dopo la mezz'ora si verifica la prima azione che farà discutere e non poco. Tunkara va via in contropiede e viene atterrato dal diretto avversario che nella circostanza risulta essere l'ultimo uomo. In questi casi il regolamento dice che dovrebbe esserci l'espulsione ma è quel dovrebbe che stona e per aria viene sventolato solo un cartellino giallo. Al trentanovesimo forte dalla linea di fondo mette in mezzo un pallone per un compagno che però non c'è. Passiamo alla ripresa. Dopo 40 secondi Senesi offre a Golia che va sul fondo e crossa ma Rossi è attento. Quarto minuto pericoloso il Riccione con Diodato che però strozza troppo il tiro e la sfera si perde sul fondo. Passano altri 5 minuti e Lavezzano va in vantaggio per la prima volta. Senesi entrato a metà primo tempo per De Silvestro offre palla a Golia che dal fondo crossa per Tunkara che arriva in corsa e di testa trafigge imparabilmente Rossi. Ancora una manciata di minuti ed ecco il raddoppio. Tunkara ottima la sua prova dal fondo mette indietro un pallone che Verna impatta di prima intenzione infilandolo proprio sotto l'incrocio più lontano. 2 a 0 e partita che sembra in cassaforte. Ma accade che al diciassettesimo la difesa bianco verde si fa trovare impreparata e il nuovo entrato a Ferrara non perdora. Palla in fondo al sacco e gara che si riapre. 22esimo Roberti vede il portiere dal limite dell'area e prova la botta dalla distanza ma deve accontentarsi solo di un po' di applausi. 27esimo cross di Tunkara per la testa di Senesi che però non inquadra lo specchio. E al 28esimo si verifica un nuovo episodio che mette il direttore di gara sul banco degli imputati. In area Verna svelle il pallone dai piedi di un avversario. La giocata sembra pulita ma il fischietto di Collegno indica il dischietto del rigore. Proteste a non finire da parte dei giocatori dell'Avezzano ma in queste categorie il VAR non c'è e dopo un paio di minuti Maio batte Brusca e la gara torna in parità. Ma non è finita perché al 37esimo l'Avezzano segna con Filippini che in corsa adevia in fondo al sacco un pallone partito dal settore opposto. Fuori gioco? Per la terra arbitrale sì, noi dimostriamo solo le immagini in nostro possesso. E per chiudere in bellezza il pomeriggio, in pieno recupero Luciani viene strattonato in area proprio sotto gli occhi del direttore di gara che si guarda bene da ravvisare una qualche irregolarità, così che a fine partita gli animi rischiano di surriscaldarsi oltre il dovuto. Ma evidentemente era scritto che l'Avezzano oggi non avrebbe potuto vincere. Presidente, un ottimo arbitraggio oggi no? Un grande procuratore tantissimi anni fa mi insegnò che a fine partita bisogna sempre fare i complimenti a tutti. È solo una giornata storta, non è una brutta vita no? E questa era la giornata storta probabilmente dell'arbero. Le discussioni oltre il novantesimo, il rigore c'era o non c'era, sono cose che non appartengono alla mia educazione e alla mia cultura calcistica. Abbiamo fatto due a due, oggi ho visto in campo la mia squadra, la squadra che il mister vuole, con la grinta e la determinazione fino all'ultimo secondo. E a me questo tanto basta, uscire tra gli applausi dei nostri tifosi perché hanno capito quanta difficoltà e quanta guerra noi siamo costretti a fare, sottolineo sempre per gli imbecilli, guerra calcistica, e quanta guerra calcistica siamo costretti a fare tutte le volte perché non basta mai anche avere due gol di vantaggio che c'è sempre l'episodio che ti rovescia la partita. Noi comunque oggi ci teniamo il bicchiere assolutamente mezzo pieno perché abbiamo fatto una grande prestazione e di questo siamo felicissimi. Ferazzoli, partiamo dalla fine. C'era il rigore per il Riccione e quello su Luciani? No, io partirei dall'inizio. Allora, non capisco la valutazione sul fallo di Tuncara dove non espelle l'ultimo uomo. Perché se non c'è punizione, se fischi punizione c'è espulsione. Andiamo sul 2-0 e ci sta un intervento su Ferrante a metà campo a gamba tesa, da rosso pieno. Non basta, ci dà il rigore dove vi posso garantire che i componenti della panchina del Riccione hanno fatto segno, questo è matto. Vi posso garantire, non ve lo confermeranno mai, ma io vi posso garantire che alcuni della panchina del Riccione hanno detto questo è matto. Poi il gol annullato. Se la linea loro bassa è sulla retta di rigore, come fa ad essere fuori gioco? Se arriva in corsa Filippini? È normale che non abbiamo il VAR e non abbiamo tutte queste applicazioni. Abbiamo un punto che secondo me lascia tanto amare in bocca perché dopo la partita del Notaresco che abbiamo parlato e riparlato ci tenevamo a fare i tre punti. La squadra ha fatto un'ottima prestazione, purtroppo non ci siamo riusciti. Sicuramente ci sono altri eventi che hanno impedito di fare il risultato. Ecco, tutto qui.